La comicità è un atteggiamento che il bambino ha fin da piccolo. Tutti i bambini sono attori, tutti i bambini sono comici, tutti i bambini sono maghi, per forza, perché è il loro mondo, soltanto che col tempo perdono questa percezione. La comicità vuol dire reintrodurre il gioco, perché il gioco comico è il gioco più semplice. Io penso a comici miei amici che non fanno null'altro che fare quello che facevano da piccoli. Quindi cosa vuol dire fare della comicità, introdurre i bambini alla comicità? Vuol dire recuperare il lato più gioioso, che poi è quello che ci insegna a vivere. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!